Pijavini, buongiorno, buona domenica, oggi è domenica 22 di novembre e ovviamente io mi sono svilata solo per l'amor vostro e l'amor dell'oroscopo perché il leoncino sta ancora dormendo, quindi faccio l'oroscopo e poi torno a letto 10 minuti allora dunque, oggi vorrei parlarvi, oggi la luna intanto entra nel segno dell'ariete e vorrei parlare, dedicare questo oroscopo in pigiama a uno dei miei idoli che è Madonna che è una figa pazzesca nel senso che non sono una cantante ma è anche un'icona di stile lei prevede i tempi anche della moda fantastica e sul palco nonostante la sua porca età è scatenata come una gazzella dopata e ci fa ballare tutti e quindi visto che anche per questa sera sarà a Torino vediamo che canzone storica di Madonna sarete secondo l'oroscopo di oggi allora il capricorno adora essere material girl in e material world la vergine invece oggi festeggia la luna storta che se n'è andata perché non è più nei pesci quindi non è più storta la vergine ma è nel segno dell'ariete che la vergine non gli dà fastidio e quindi balla la isla bonita l'ariete con oggi rimette fuori la testa e si scatena con Papa Don Pritch perché per un giorno l'ariete nonostante Marte opposto torna simpatico e si dimentica di essere nervosetto il gemelli si sente un boss oggi e quindi come in music arriva con il tanto di limusine bianca di fianco al rapper super catenizzato Aligi la bilancia è in un momento malinconico oggi potrebbe darsi a quella canzone che mi piace tanto Don't Cry For Me Argentina con Madonna in stile Evita Peron lo scorpione è un po' lolita e gli piace di brutto e quindi canterà Miss American Pie l'acquario ha degli scatti di gelosia oggi potrebbe averne più del solito e quindi ringhiare Who's That Girl il cancro ha tutto storto oggi e vi dice a chiare lettere Don't Tell Me senza il please il leone penserà oggi soltanto a studiare e a fare il bravo like a virgin il toro ha voglia di amare e grida perché il toro in questo periodo ha un sacco di voglia di amare quindi vi griderà Open your heart to me baby questa ve la potevo evitare i pesci sono un pochino malinconici e pensierosi oggi non hanno neanche più la luna a loro favore poveretti e quindi sussurra non cerisce con le lacrimucce infine il sagittario saputello e maturo oggi si potrebbe dilungare in discorsi sul tempo come sul tempo che passa con Hang Up ragazzi postatemi, cantatemi anche senza postare cantate basta che è una figata canzone di Madonna e non e se andate a Torino questa sera fatevi delle foto perché vi inviderò tantissimo e noi ci vediamo domani con il prossimo orascopo in pigiama ciao